Sono Mario Giavazzi, uno dei promotori dell'appello ai lavoratori non sono carne da macello. Un appello che vi invito a sostenere. 64.000 casi di contagio e più di 6.000 decessi in Italia, data giornata ieri. Una vera e propria guerra, purtroppo. Una guerra che stanno combattendo lavoratrici e lavoratori dei servizi essenziali. Una guerra che stanno combattendo senza armi o con armi del tutto inadeguate. Mi riferisco all'assenza o alla carenza ancora oggi a distanza di un mese dall'inizio dell'emergenza sanitaria di dispositivi di protezione individuale. Questi lavoratori stanno lavorando senza adeguate misure di sicurezza e di protezione. Un dato, peraltro, assolutamente non realistico. Lo dice chi fornisce il dato ufficialmente, peraltro. Ci sono persone, dirigenti, industriali, leader politici, persino calciatori che possono fare il tampone ogni volta che vogliono, anche se non hanno sintomi. Ci sono chi, invece, non può farlo. I lavoratori, persino gli operatori sanitari, insomma i comuni mortali che non possono fare il tampone perché non sono a disposizione o sono a disposizione col contagocce. È una sanità al collasso. Questo è il risultato di un processo di smantellamento della sanità pubblica avvenuta negli ultimi 30 anni. Tagli, privatizzazione, il blocco delle assunzioni. La sanità oggi non è in grado di gestire questa epidemia. E, peraltro, la situazione che si sta avvenendo negli ospedali non riesce ad essere denunciata da lavoratori della sanità, spesso sottoposti a censura. Noi lo diciamo con chiarezza. Medici, operatori sociosanitari, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, ma anche lavoratori delle pulizie, lavoratori dei trasporti, insomma tutti i lavoratori dei servizi essenziali o che forniscono servizi essenziali, devono lavorare in sicurezza. È davvero inaccettabile che i luoghi nei quali i lavoratori lavorano per fornire servizi essenziali si prende il contagio. È una ricetta bella e buona per la diffusione del contagio in Italia. Ci sono poi lavoratori dei servizi produttivi non essenziali. È fuori da ogni logica il fatto che ci siano lavoratori che producono merci non essenziali per le persone, che possono essere prodotti alla fine dell'emergenza sanitaria, siano costretti e siano chiamati a lavorare. In questo mese abbiamo visto delle lotte importanti e molto riuscite, scioperi, di lavoratori che hanno lottato chiedendo il blocco della produzione. Era una misura ed è una misura necessaria per impedire e contrastare la diffusione del contagio e soprattutto per difendere la salute dei lavoratori. Queste lotte avevano costretto il governo a prevedere il fermo della produzione. Sabato una conferenza stampa di Conte aveva dichiarato che avrebbe fermato la produzione, ma il giorno dopo pressioni delle aziende, pressioni di Confindustria hanno modificato radicalmente la posizione del governo. Il decreto è uscito con tanti settori che di essenziale non hanno nulla, si tratta di più di 90 settori, ci sono dentro le banche, ci sono dentro le poste, ci sono dentro i call center, ci sono dentro i settori della siderurgia, le fonderie, i settori della chimica, insomma c'è dentro di tutto che permette ai padroni di mandare avanti la propria produzione e di utilizzare i lavoratori come carne da macello. Bene, stanno facendo i lavoratori in questi giorni a continuare gli scioperi, a non abbassare la guardia. E bene, stanno facendo CGL e Cisleville a coprire questi scioperi. Ma non è sufficiente. Gli scioperi non possono essere demandati e delegati alla scelta delle categorie, non possono essere delegati e demandati alla scelta di alcuni territori. Lo sciopero deve essere uno sciopero generale e a tempo indeterminato, perché non si può lasciare la responsabilità della scelta ai lavoratori, all'RSU o ad alcune categorie, ma l'unico modo per garantire la copertura dello sciopero è la possibilità dei lavoratori di stare a casa e di non andare a lavoro per lavorare in aziende e in settori che non producono beni essenziali e quello di proclamare uno sciopero generale a tempo indeterminato, ripeto, dei settori produttivi che non producono beni e merci essenziali. Un altro tema è fondamentale da approfondire. Quali sono i servizi essenziali? Perché se anche uscisse un decreto che effettivamente effettivamente mettessi in fila tutti i settori che forniscono servizi o che producono beni essenziali, questo non sarebbe sufficiente. Ci sono tante aziende che producono servizi essenziali o che forniscono servizi essenziali, ma al quinterno ci sono anche produzioni non essenziali. I lavoratori sono gli unici che sono in grado di decidere quali sono i servizi essenziali e lo devono fare attraverso le loro rappresentanze, attraverso le loro organizzazioni sindacali, attraverso i loro organismi di rappresentanza che devono decidere quali sono i rami produttivi, i settori, i reparti che devono rimanere aperti per fornire servizi essenziali o per produrre beni essenziali e quali invece devono chiudere. Faccio solo un esempio, ma ne potrei fare tantissimi, i trasporti. Un conto è trasportare e fornire beni essenziali e quello è giusto che venga fatto ed è giusto che i lavoratori decidano di continuare a farlo. Un conto è trasportare, approvvigionare le persone, le aziende di servizi e di beni non essenziali. Quella produzione, quel servizio va interrotto perché i lavoratori devono rimanere a casa come tutti e non devono essere sottoposti al rischio di un lavoro che non è necessario oggi. Finirà questa emergenza, i lavoratori dovranno presentare il conto. I lavoratori stanno chiarendo, capendo oggi quanto questo sistema economico è marcio. Stanno capendo oggi con ancora maggiore chiarezza quanto per i padroni viene prima il loro profitto e poi la salute e la sicurezza delle persone e dei lavoratori. I lavoratori dovranno presentare il conto e chiederanno che la sanità diventi un comparto ed un settore sul quale bisogna investire, che bisogna finanziare, bisogna assumere i lavoratori nei servizi pubblici, bisogna investire e sostenere lo Stato sociale e soprattutto bisogna riprendersi ciò che ci è stato tolto. In questi giorni sono state fatte ferie forzate, cassa integrazione, i lavoratori hanno perso salario. I lavoratori non possono pagare con le loro tasche questa emergenza e non potranno e non dovranno pagare le conseguenze di questa emergenza che saranno conseguenze che nessuno di noi può immaginare. Una crisi economica profonda. I lavoratori presenteranno il conto e lo dovranno presentare organizzandosi e lottando. Ne vedremo delle belle.